Un saluto a tutti i videoascoltatori di Italia Medievale. Oggi presentiamo un interessantissimo saggio di Carlo Tosco dal titolo L'architettura italiana nel 200, pubblicato da pochissimo dal mulino, sono 376 pagine per 25 euro e io come mia abitudine non rubo tempo al nostro ospite perché mi interessa tantissimo l'argomento e quindi lascio subito la parola al professor Tosco. Prego professore. Bene, buongiorno a tutti. Sono lieto di presentare questo mio lavoro e complimenti per l'organizzazione di questo sito che rende conto delle cose che escono, dei contributi, dei libri ed è sempre importante, ed è sempre fascinante parlare di libri. Poi è un po' difficile per un autore parlare di se stesso, ma direi facciamo una chiacchierata, un racconto di quello che è questo contributo. Di cosa si tratta? Si tratta di un volume dedicato al 200 che segue un volume che è uscito nel 2016 dedicato invece all'architettura medievale italiana dal 600, dall'anno 600 all'anno 1200. Quindi il volume di prima erano sei secoli dell'architettura italiana e questo invece è un solo volume dedicato a un solo secolo. C'è quindi una sproporzione che è dovuta, come tutti possono immaginare, al fatto che gli edifici aumentano in modo esponenziale. Cioè, quando abbiamo la svolta del 200 c'è una quantità impressionante di edifici conservati e fortunatamente giunti fino a noi che ci consentono di aumentare molto la nostra conoscenza sull'architettura medievale e di comprendere meglio questo straordinario patrimonio. Dunque, con l'editore praticamente avevamo l'idea di fare un primo volume, un secondo volume, quindi un primo volume prima 1200, un secondo volume post 1200 che concludesse il Medioevo, ma non ce l'ho fatta. Insomma, alla fine ne ho fatto uno sui 200. Seguirà, ci sto già lavorando, e uscirà in primavera, nell'autunno 2022, uscirà al 300. E allora poi li concludiamo, perché sul 400 non mi inoltrarò, perché come tutti sapete le cose, i scenari cambiano profondamente. Dunque, allora, che cosa succede in questo tredicesimo secolo italiano? Quali sono le caratteristiche, quali sono i fenomeni? E perché la necessità di dedicarci all'intero volume? Ma perché è estremamente affascinante osservare che l'architettura italiana in questo periodo è un'architettura molto varia. E forse, io penso, il secolo di maggiore sperimentazione dell'architettura medievale italiana, ma direi anche probabilmente europea. Cioè, è un momento in cui si realizzano costruzioni in direzioni molto diverse, che fanno capire come innanzitutto l'Italia non sia un fenomeno in Italia. Non esiste l'architettura italiana nel 200, esistono tante architetture, a volte a carattere regionale, a volte sovra-regionale, ma che obbediscono a orientamenti, a modelli molto diversi. Facciamo una panoramica. Cosa succede? Quali sono i grandi fenomeni di questo senso? Beh, il primo fenomeno è la svolta del 200 appunto, che vuol dire l'impatto dei modelli francesi. L'impatto di quelle architetture che oggi chiamiamo gotiche, no? E che loro ovviamente non chiamavano così, e che rappresentano un nuovo modo di costruire, un nuovo totalmente una radicale innovazione nell'arte del costruire, come non si era mai vista in Europa, che cambia profondamente l'approccio verso il cantiere, verso le maestranze, verso la gestione delle opere. Questa architettura che noi oggi chiamiamo gotica, loro come la chiamavano? Sappiamo che aveva dato il nome, Obus Francigenum, cioè opera alla francese, la chiamavano, perché era percepibile a tutti che quel modo di costruire così innovativo aveva una nazione d'origine che era la Francia, che era la Francia monarchica, cioè il regno di Francia, non la Francia di oggi che è più estesa, ma il regno di Francia. Quindi quella zona, diciamo, del centro-nord della, 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 di quella che era l'ex Gallien, che ormai si è consolidata una monarchia forte, sempre più forte che la monarchia, appunto, la monarchia capetingia. Quella monarchia, diciamo, nel periodo che va da Filippo Augusto a Filippo il Bello, dai due Filippi, no? Cioè dagli anni intorno al 1200 all'inizio del 300 conosce uno sviluppo incredibile di questa creatura delle famose cattedrali che cambiano l'arte del costruire in Europa. Ora, tutti sappiamo che in Italia questo modo è recepito, queste novità sono recepite in parte, sono recepite in modo settoriale, alcune volte profondamente, altre in modo superficiale, altre sono proprio rifiutate. Allora questa dialettica dei modelli francesi è una delle chiavi, no? Per capire questo secolo. E questo è il primo punto. Un secondo grande capitolo del 200 italiano è la creatura di Federico II. Sono i grandi monumenti concepiti da questo imperatore e re di Sicilia che si presenta al mondo come un grande committente, che occupa la prima metà del 200, ma i grandi cantieri sono avviati a partire dal 220 più o meno, quindi sono poi 30 anni di architettura, che comportano la costruzione di edifici famosissimi, per cui tutti conosciamo Castel del Monti, fin da quando facciamo storia dell'arte nelle medie, ed è un edificio più noto, più divulgato nel medievo, direi non soltanto italiano, ma nel medievo europeo. E allora questi edifici ci colpiscono, no? Per essere completamente diversi da quelli pensati, concepiti in altre regioni di Europa e che rispondono ad una logica, che è la logica imperiale. E cioè Federico II II è un imperatore, orgogliosissimo del suo ruolo e della sua funzione, che si considera erede dei Cesari, erede dell'antichità romana e che intende affermare questo suo potere in modi molto diversi e uno di questi modi è l'arte e l'architettura. L'architettura per Federico II è un veicolo di propaganda politica e di affermazione della sua autorità. Lo vediamo in diversi casi. I due più, diciamo, più famosi e più accadenti sono Castel del Monte e la Porta di Capua. Castel del Monte ci è pervenuto in buone condizioni fino ad oggi ed è un edificio che è sempre un piacere andare a visitare, invece la Porta di Capua è perduta. È un edificio che non c'è più, se non nelle parti barrasolamentali e che quindi dobbiamo soltanto immaginare, ma è ben documentata, abbastanza ben documentata da una serie di immagini, descrizioni e di frammenti conservati al Museo di Capua. Ecco, in sintesi, quali erano i messaggi che emergevano? Beh, da una parte della Porta di Capua emergeva un messaggio di autorità civile che si imponeva sul territorio, che aveva una sua conformazione di forza, di potenza comunicata dalla struttura fortificata della porta stessa, che si presentava con una serie di rilievi verso l'esterno che esprimevano questo, celebrazione della giustizia e dell'imperatore come capo della cristianità. la Porta di Capua sorgeva in un luogo strategico, non nel senso militare, ma strategico nel senso politico, perché era il luogo di confine tra i possedimenti dello Stato e della Chiesa e l'inizio dei possedimenti imperiali. Quindi Capua era il confine, insomma, tra i due mondi e la Porta di Capua dava verso nord, cioè dava verso Roma, in qualche modo, ed era un messaggio molto chiaro lanciato all'autorità dei papi, con cui Federico II si sta, ormai è in, diciamo, in rotta di collisione e subirà poi le due scomuniche che lo metteranno in aperto conflitto con la sede pontificia. Ecco, invece Castellemonte che cos'è? Castellemonte è, ancora oggi rimane, dobbiamo riconoscere, che mantiene un forte carica enigmatica. La mantiene, non c'è dubbio. Perché? Perché non c'è un solo documento che ci dica qualche cosa su questo castello. Abbiamo un documento sporadico che ci dice l'inizio del cantiere, ci dice Federico che interviene neanche dalla Sicilia, ma sta da tutta altra parte, sta nel nord Italia in quel momento, ma dice a un suo ufficiale di intervenire per la costruzione di quel castello, ma non abbiamo null'altro. Non abbiamo null'altro. I documenti che poi ci arrivano sul Castello del Monte sono della seconda metà, a partire dalla seconda metà del 200. Dunque, noi non sappiamo, non abbiamo qualcosa che ci illustri la logica di Castellemonte, che ci aiuti a capirla. Sono state proposte tantissime interpretazioni, alcune assolutamente improponibili, assolutamente fantasiose, neo-medievali, neo-templari o neo-quello che volete. Altre invece fondate e ben costruite con delle basi storiografiche forti. Quali possono essere quelle forti, quelle che si possono essere difese? Allora, uno ha un riferimento simbolico alla corona imperiale, che in effetti aveva una forma ottagonale, quella di Vienna, per intenderci, e oggi conservata a Vienna, e che potrebbe essere richiamata dalla forma del castello. Il castello A è una geometria assolutamente di grande fascino, perché è un ottagono con un cortile ottagono che ha agli otto spigoli, otto torri di forma ottagonale. Quindi è chiaramente una ripetizione progressiva dell'ottagono e che viene ridotto in forme geometriche modulari con dei calcoli matematici, che sono stati infatti sicuramente da qualcuno che aveva forti nozioni di matematica, è stata richiamata in causa anche Fibonacci, Lardo Fibonacci, che era comunque entrato nell'orbito della corte imperiale, era entrato in contatto con la corte imperiale, sapete il grande matematico pisano, ma anche senza ricorsa a Fibonacci, comunque ci devono essere sicuramente cultori delle scienze matematiche nella corte di Federico. Ecco, poi però sappiamo che gli studi molto mirati, fatti sul luogo, con strumentazione adeguata, hanno dimostrato che Castello del Monte ha un'applicazione abbastanza incerta delle regole geometriche. Ci sono delle misure che non tornano, delle asimmetrie, delle correzioni in corso d'opera. Quindi l'idea che emerge è che Castello del Monte sia progettato da un matematico, ma che sia poi realizzato da qualcuno che aveva nozioni meno forti da quel punto di vista, ma ottime dal punto di vista costruttivo, perché le tecniche sono di altissima qualità. Dunque, le tecniche diciamo di intaglio dei conci e di gestione del cantiere. Allora, appunto, Castello del Monte può richiamare tantissimi aspetti simbolici, uno è quello della colore imperiale, l'altro è un riferimento al candelabro che il nonno di Federico II, cioè Federico I, il Barbarossa, aveva donato alla Cappella Palatina di Aquisgrana, che ha una forma ottagona e poteva essere con delle torri poste nei punti di intersezione dei lati e questo potrebbe essere un altro richiamo. Un altro richiamo potrebbe essere il Santo Sepolcro di Gerusalemme o la moschea o piuttosto la cupola sulla roccia. Sappiamo che Federico II era re di Gerusalemme e portava il titolo di re di Gerusalemme, aveva concluso un trattato, un accordo con i musulmani per la visita pacifica dei luoghi santi. Altri esempi che potrebbero essere chiamati, ma di fatto tutto questo rimangono soltanto ipotesi, perché non c'è nulla che ci dica qualcosa di più su Castello del Monte. Quindi questa dimensione ipotetica va rispettata e sicuramente rappresenta un lato forte del suo fascino. Quindi questo grande capitolo dell'architettura federiciana, che poi è molto complesso, ad esempio contempla una serie di castelli costruiti nella Sicilia orientale, che sono Siracusa, Augusta e Catania, tre castelli simili, non uguali, simili, che tutti elaborano architettonicamente dei modelli geometrici, in particolare il modello quadrato, contori ai quattro vertici. Quell'immagine un po' del castello medievale che tutti abbiamo in mente, fin da bambini, sembra un po' incarnata in questi tre castelli della Sicilia orientale, che sono costruiti tutti nello stesso periodo, dove sotto sappiamo che ci sono dei costruttori, da Lentini in particolare, che hanno un ruolo importante nel progetto. Allora, quindi una grande varietà di soluzioni, la creatura imperiale di Federico II non è un'architettura unitaria, è un'architettura che sperimenta strade diverse e che presenta un grandissimo fascino. Allora, un altro grande capitolo che è contemporaneo a questo, che avviene al suo periodo, cioè nella prima metà del 200, che avviene sempre in Italia, ma che di tutt'altra natura, è quello degli ordini mendicanti, della nascita degli ordini mendicanti. Nel primo ventennio del 200 nascono prima quelli che noi chiamiamo i francescani, ma che loro chiamavano i minori, i frati minori, poi nascono i domenicani, cioè i frati predicatori, due ordini nati da due personaggi completamente diversi, che poi si trovano accomunati in un destino in un destino comune, ma, ecco, è andata via l'immagine, accomunati in un destino convergente dalle politiche, soprattutto pontifice, ma che si erano mosse secondo direzioni diverse. Da una parte San Francesco è una persona che ha una profonda archività spirituale e che gli storici oggi ci dicono, gli storici della Chiesa, ormai è chiaro che l'ultima cosa che Francesco voleva fare è fondare dei correnti, e anche fondare delle chiese. Non era assolutamente questa la sua intenzione, la sua intenzione era di cercare di convertire il più possibile gli uomini nella società dell'epoca, di creare intorno a lui delle comunità di fratelli che seguissero dei principi e che li verranno poi imposti di scrivere in una regola, ecco, ma lo sviluppo successivo dell'ordine imporrà la costruzione di chiese. Le chiese diventeranno un elemento fondamentale della vita di queste comunità. D'altra parte i domenicani invece, cioè come loro li chiamavano i predicatori, invece sono un ordine diversissimo, sono un ordine che già nasce inquadrato in una struttura ecclesiastica, sono generalmente dei sacerdoti, anche i primi, che aderiscono a questo movimento e sono soprattutto, acquisiscono subito, elaborano subito una regola che è di tipo canonica, cioè assomiglia alle regole dei canonici, quindi sono delle comunità che vengono intorno a chiese e che fanno una vita in comune. Ma per entrambi, sia per i predicatori che per i minori, è importantissima la predicazione, cioè il contatto con il mondo laico, l'annuncio del Vangelo ai laici. Allora questo diventa l'elemento che li accomuna, ma li accomuna anche con una specie di destino italiano, perché Domenico, che poteva benissimo scegliere ad andare a Parigi, invece va a Bologna e muore a Bologna, perché i due grandi sedi universitari europei erano quelle, Bologna e Parigi, ma sceglie di andare a Bologna. E a Bologna si formano le prime strutture dell'ordine e a Bologna viene fondata la prima grande chiesa dell'ordine che è il San Domenico. Francesco sappiamo che morirà ad Assisi e ad Assisi viene tumulato temporaneamente in una chiesa e poi viene solennemente traslato nella nuova basilica che costruite in suo nome. Allora, vedete questi due destini che si sviluppano parallelamente, già annunciano due modi di fare architettura che si svilupperanno e che non hanno assolutamente una realtà unitaria. Non possiamo vedere un'unità di modelli neanche per il 200, ma che assumono subito delle strutture, delle soluzioni diramate e che il libro cerca di seguire e di ricostruire. Allora, ecco, tutto il grande capitolo dell'architettura di Ombi di Medicanti. E poi viene un altro capitolo sempre di grande fascino che è quello dell'architettura pubblica. E cioè nell'Italia del 200 si sviluppa una grande architettura pubblica. Non nasce perché già era nata prima, ma prima aveva avuto manifestazioni molto modeste se non a livello difensivo, cioè le mura urbane, erano l'aspetto più pubblico della città comunale del XII secolo. Poi c'erano altre, sappiamo che c'erano già dei palazzi comunali, ma erano strutture modeste, testimonialmente dalle fonti che non ci sono pervenute, ma erano strutture modeste. Invece nel 200 le città italiane sviluppano veramente un'architettura per la società, per lo Stato, dove i cittadini possono soffrire di pubblici servizi. Questa è una grande novità, è qualcosa che affascina, no? Allora queste architetture pubbliche hanno un centro politico che è il palazzo, appunto il palazzo pubblico o il palazzo del comune. Quel tipo di costruzione è una grande novità nella storia di architettura che si inventa in Italia, in Italia c'è il centro settentrionale, viene impettato a questo nuovo tipo, è un prototipo in questo senso, è un nuovo modo di pensare all'architettura pubblica che non esisteva negli altri paesi, semplicemente perché i comuni non esistono, i comuni sono un fenomeno italiano, esistono certamente delle città con delle forme di autonomia, ma non sono come in Italia delle città stati, i comuni italiani sono delle città stati, sono città con un territorio che viene conquistato militarmente e mantenuto con la forza delle armi. Ecco, quel sistema ha un suo centro, il sistema, cioè territorio e città, ha un suo centro simbolico che è il palazzo comunale. La sede del governo, che non è un governo come fosse la sede di un comune, no, moderno, no, è la sede di uno Stato, ed è la sede di un Parlamento, di uno Stato che è un esercito, che ha una burocrazia, che ha una vita politica, eccetera. Allora, questi edifici vengono concepiti con, secondo alcuni modelli diversi, a volte sono modelli, cioè all'inizio si impone un modello che deriva dal cosiddetto broletto lombardo, cioè da questo brolo, no? Da questo brolo del prato in cui si riunivano le comunità dei cittadini per prendere delle decisioni comuni, diventa un prato a posto di fianco alla cattedrale e diventa poi il nome di questo edificio, edificio che viene appunto inventato nel mondo lombardo e che ha generalmente, cioè, alcuni di questi hanno delle caratteristiche molto ricorrenti, che possiamo riassumere con una struttura parallelepipeda, un portico al piano terra che ha funzioni diverse, un portico passante, quindi tutto il piano terra è un porticato, che ha funzioni diverse, ma la principale sono funzioni commerciali, per cui il comune lucra dalle botteghe che vengono locate a chi le richiede, e il piano nobile riservato a una grande sala per unioni e poi altre sale per uffici che compongono questa prima struttura. Ecco, questo modo di concepire l'architettura è sostanzialmente nuovo e sostanzialmente italiano. E poi avranno declinazioni diverse, andando verso il centro Italia, cominciano a elaborarsi delle forme diverse, dopo dei grandi blocchi chiusi, come sono primo, ovviamente, della Toscana è quello di Volterra, poi seguono quelli fiorentini, prima il Bargello fiorentino e altri, anche quelli di Massa Carrara, e questi, scusate Massa Marittima, questi broletti sono le prime manifestazioni di un modo di concepire la struttura pubblica che si costituiscono anche in Italia centrale. Ma addirittura a Roma, a Roma viene fondato un grande palazzo pubblico che dov'è? E' sul Campidone, cioè sul centro della vita politica della Roma antica, diventa, a senso simbolico della vita della Roma antica, diventa la sede del comune medievale, quello che diventerà la sede del comune laico, opposto in qualche modo al governo dei papi, nei momenti in cui il comune si pone in conflitto con la sede pontificia. Eccolo, degli spazi di osservazione delle politiche dei comuni e delle loro scelte e dei loro destini. Quindi sono strutture poi realmente polifunzionali che si adattano poi alle diverse scenarie politiche, a un certo punto quando i comuni cadono sotto il potere signorile, i broletti non vengono mica demoliti, anzi continuano a spritare alle sedi del governo, ma a questo punto è stato un governo comunale, locale, e ha dei rappresentanti signorili che ne portano il potere. Ecco, allora questo è tutto un altro filone di grande fascino, e poi abbiamo un quarto filone che sono la chitura dei papi, la chitura degli angioini, perché in Italia con l'impresa di Carlo I, di Carlo D'Angio, si forma un regno, un regno autonomo, un regno di Sicilia, che però Pesto perde la Sicilia a causa dell'invasione lagonesa e quindi diventa poi il regno di Napoli, ed è un regno che sintetizza una propria architettura. Nel 200 comincia a promuovere un'architettura autonoma che è commissionata dal nuovo potere, cioè dal potere angioini. Allora sì, lì nell'Italia meridionale vediamo arrivare dei modelli francesi con estrema chiavezza, dei modelli veicolati proprio dalla presenza, anche le maestranze le conosciamo, i nomi dei maestri, sono tutti francesi perché Carlo D'Angio si porta dietro i suoi maestri di fiducia dalla Francia, ma dalla Francia meridionale, quindi non è tanto la Francia del Nord, tanto la Francia delle grandi cattedrali dell'area del bacino della Senna, ma è piuttosto una Francia del Midi che ha un gotico di diverso orientamento. E poi c'è l'architettura dei papi che conosciamo poco perché in gran parte sono state distrutte o trasformate, ma alcune grandi manifestazioni, ad esempio pensate alla Racelli, sempre su Campidoglio, la grandiosa chiesa dei francescani, oggi che vediamo in moltissime alterazioni, ma che ha ancora questo fascino di una chiesa francescana che però si presenta su colonne con dei richiami al mondo classico, con colonne di rimpiego perché siamo a Roma e le colonne non mancano, con delle scelte molto particolari. Allora ecco, infine chiudiamo il 200 con alcuni grandi cantieri, con alcuni grandi cantieri che sono un impatto straordinario sull'architettura europea proprio, e se ne emergono due, tre, ecco, sono il Duomo di Siena, il Duomo di Firenze, la nuova Santa Reparata, che poi sarà detta Santa Maria del Fiore, ma che all'epoca era la Santa Reparata, e il Duomo di Orvieto. Tre grandi catedrali fatte nel centro Italia che in qualche modo circolano, si guardano l'una con l'altra, ma che hanno delle scelte diverse, di cui due ci sono pervenuti in ottimo stato, che sono Siena e Orvieto, che sono due fabbriche ancora oggi stupefacenti, le tre più belle, più affascinanti del medievo italiano, e una non ci è pervenuta, se non in condizioni molto alterate, che è la Santa Reparata di Firenze, che tutti sappiamo ha poi il tormentato cantiere, che arriverà poi, giungerà poi uno sbocco all'inizio del Quattrocento, con Brunelleschi. Ecco, quel cantiere lì, progettato inizialmente da un orfo di cambio, è difficile da capire come fosse nel suo stato iniziale, quale fosse il vero progetto dell'Annolfo, il libro fa a proposito alcune ipotesi. Invece poi abbiamo le altre due, Siena e Orvieto, che sono due architetture straordinarie, ma completamente diverse. Hanno alcune analogie settoriali, anzi alcune maestanze circolano anche per i due cattieri, ma di fatto si presentano come molto diverse e Siena è una basilica voltata che riprende certi temi legati anche all'architettura cistercense, perché c'è di mezzo il cantiere di San Galgano, che fornisce le maestanze, fornisce degli orientamenti forti, ma c'è anche la scelta della cupola, questa cupola straordinaria del nuovo di Siena, che è la prima cosa che viene costruita nel nuovo cantiere. Una cupola base esagonale, quindi molto particolare, invece a Orvieto c'è la grande scelta di una basilica su piloni, su grandi piloni, ed anche tutto sesto. Anche tutto sesto è una spazialità, una luminosità straordinaria, un sistema di contrafforti laterali fatto da semi-cappelle, cappelle semi-circolari, che ospitavano una funzione liturgica, ma assumono anche una funzione di contrafforte perché impediscono il rimaltamento delle pareti. Non ci sono, inizialmente, archi lampanti, ci sono quelli poi che verranno aggiunti nel Trecento, ma come era inizialmente il progetto, non aveva archi lampanti, era una struttura purissima, di grandissimo impatto, dove c'era probabilmente dietro Bonifaccio VIII, sicuramente, se abbiamo finanziato il cantiere, però ebbe più un ruolo, forse maggiore, che di semplice finanziatore, e c'è una figura fra Bevignate, che in qualche modo deve essere riconosciuta e riscoperta come un grande protagonista di questa architettura italiana, di fine del Trecento. E con questi cantieri si conclude il libro, con un vieto si conclude il libro, che si aprirà, poi riprenderà, con l'inizio del Trecento, con le nuove grandi scelte, che saranno edifici come Santa Croce di Firenze, che è iniziata nel 1295, ma è costruita in parte all'inizio del Trecento, e poi con le architetture angioine del Sud, del Trecento, immaginate Santa Chiara, per intenderci, e poi le grandi committenze di Visconti nel nord, quindi delle prime architetture signorini italiane. Ecco, quello sarà il capitolo, poi nel Trecento, su cui sto scrivendo, che uscirà il prossimo anno. Un tentativo di rileggere, in qualche modo, l'architettura del Medioevo italiano. E noi abbiamo la grandissima fortuna di avere in parte ancora visibile. Sì, in buona parte ben conservata. Mentre per i secoli precedenti era sempre un rimpiangere edifici perduti, edifici alterati, ecco che dal 200 cominciamo a vedere, ovviamente i restauri ci sono, sono fortissimi, molti edifici sono cambiati, questo è inevitabile per il Medioevo. Però, diciamo, il patrimonio monumentale della nazione, dal 200 ha una consistenza impressionante. Insieme alle grandi chiese, c'è proprio la riorganizzazione degli spazi urbani e dei centri cittadini, quindi l'ampliamento delle mura, la ridefinizione della viabilità interna. Sono scelte importanti che ci arrivano praticamente quasi inalterate, anche se poi ci arrivano nelle grandi linee. Certamente, è ben percepibile, questo è un legale ilascio del Medioevo italiano sulle nostre città. E ce l'abbiamo noi. E continuiamo a parlare di secoli bui. Vabbè, questo è... No, ma questo ormai più nessuno. Dice che c'è ancora qualcuno. Beh sì, ancora qualche pulizia. Non siamo più nel Medioevo. Non siamo più nel Medioevo. Non abbiamo più Dante, non abbiamo più Giotto. Sì, e neanche Petrarca. Neanche Boccaccio. Quindi, però, vabbè, bisogna comprarlo questo libro, perché è veramente uno dei secoli fondamentali per la comprensione, per tutto ciò che c'è stato prima e per tutto ciò che verrà dopo. E' uno dei grandi momenti di trasformazione del Medioevo, soprattutto per quello che riguarda l'Italia, più che altrove. Quindi bisogna andare a comprarselo. Io allora per questo vi ricordo il titolo, che è L'architettura italiana nel 200. L'autore che è stato con noi è Carlo Tosco, l'editore è il mulino. Sono 376 pagine, quindi è un bello denso. È un prezzo tutto sommato abbordabile e che invita ad acquistarlo. Quindi correte in libreria e compratelo e scoprite le meraviglie dell'Italia del 200. Io ringrazio tantissimo il professor Tosco. Grazie a lei. Ricordo di continuare a seguirci sul nostro sito che è www.italiamedievale.org dove troverete anche questa videopresentazione insieme a tutte le altre che abbiamo realizzato in questo lunghissimo periodo di pandemia che sembrerebbe quasi arrivato a conclusione e che tutti ci auguriamo che sia così. Va bene. Bene, arrivederci a tutti e grazie. Buona sera. Grazie a tutti.